L'amministrazione provinciale ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell'ex Collegio Colombo, sede dell'Istituto Alberghiero Marconi, dove sono iniziati i lavori del primo lotto di ristrutturazione messa a norma antisismica dell'edificio. Saranno in tutto tre i lotti con cui procederanno i lavori, questo primo della durata di circa sei mesi e per un importo di un milione e ventimila euro che prevede la ricostruzione ed il consolidamento dei solai e di una riqualificazione generale dell'edificio risalente agli anni 30 e vincolato dalla soprintendenza. Il secondo lotto dei lavori è ancora in attesa dell'iter per il progetto esecutivo, dato che la provincia ha già avviato la richiesta per l'ottenimento dei fondi della Banca Europea degli Investimenti, i cosiddetti Mutui Bay. Il progetto è tre primi in graduatoria, ma comunque dietro a progetti che prevedono una demolizione totale e rifacimento ex novo degli immobili, situazione impossibile da realizzare in questo stabile, visti i vincoli ma soprattutto il profondo logame affettivo con la città. L'intervento porterà alla demolizione delle ali laterali dell'ultimo piano e al rifacimento della copertura. Tra i due lotti si procederà alla realizzazione ex novo delle cucine grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio. Un edificio antisismico di 1600 metri quadri in ferro e vetro che sarà di fatto il primo ambiente ad essere messo a disposizione della scuola che potrà dunque contare sulle cucine definitive dopo il frazionamento attuale delle lezioni nei locali del Fienile e del ristorante Gusmano.